L'Italia è uno scrigno di tesori artistici e architettonici, una miniera colma di tracce del passato, ma per fare del passato un'eredità viva serve un cambio di rotta nella valorizzazione del patrimonio culturale nel nostro paese. È la convinzione di Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MIPACT, ospite in Yulm, martedì 9 febbraio, per la presentazione del suo libro Patrimonio al futuro, un manifesto per i beni culturali e il paesaggio. Ma quali direzioni dare al cambiamento? Costruire una via italiana nuova alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Ripeto, prendendo e conservando il meglio della nostra tradizione, ma introducendo molto cambiamento e innovazione, ma guardando a quello che succede nel mondo, a quello che succede negli altri paesi europei, a quello che succede anche in paesi lontanissimi, abbiamo molto da imparare, ma sono certo che proprio grazie alle nostre competenze, alla formazione ottima nelle nostre università, noi abbiamo, come dire, una marcia in più che può fare del paese, Italia, ancora un riferimento fondamentale, internazionale nel campo dei beni culturali. La finestra del rinnovamento deve aprirsi sulle discipline della comunicazione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, leve fondamentali per traghettare i beni culturali nel futuro. Una visione moderna, attuale, propria del terzo millennio, non può ridursi alla presenza di figure professionali, tradizionali, importantissime, ma non più sufficienti. Non bastano più solo archeologi, architetti, storici dell'arte, ma servono esperti di comunicazione, esperti di tecnologie, economisti della cultura e così via. Nuovo protagonismo dunque ai professionisti di domani. E allora, quale consiglio rivolgere alla nuova generazione di manager dell'arte che sta formando le proprie competenze all'Università Yulm? Il consiglio è studiare, specializzarsi, avere delle competenze anche molto raffinate e molto specialistiche, ma non chiudersi mai nel proprio specialismo. Abbiate la competenza, la voglia, la curiosità di guardarvi intorno, di studiare, capire, leggere e dialogare con altri saperi, perché soltanto una competenza, che è un mix tra specialismo e grande apertura, può darvi le opportunità migliori e soprattutto può dare al patrimonio culturale quelle energie di cui ha veramente bisogno. Grazie a tutti.